Le tematiche, lo legge già il titolo, si parlerà di leucemia e Covid perché c'è molto a voler sapere da parte dei nostri pazienti soprattutto se questa Covid può intaccare chi è malattia e leucemia, come affrontare questo problema. Ci saranno dei fatti, quindi verrà raccontato dal nostro professor Bisani che cosa è meglio fare e cosa non è meglio fare. Il presidente dell'AIL ci è stato scritto, ci limiterà soltanto a dire poche parole in merito all'AIL. Il nostro sindaco, siamo molto contenti che abbia accettato l'invito a partecipare a questo dibattito, parlerà sicuramente del nostro territorio come giusto che sia e di cosa sta facendo. E poi c'è il big ospite Alessandro Cecchi Paone che oltre a parlare del suo libro perché ha appena scritto un libro, appunto il Covid segreto, anche lui entrerà in merito a questo discorso del Covid e cosa sta succedendo, cosa succederà. Parlerà anche dell'abbinamento Covid e leucemie. Siamo raccolti dei fondi per aiutare la ricerca scientifica, per aiutare l'assistenza domiciliaria che è la nostra mission, ma la cosa bella è che i fondi erano raccolti non solo nella nostra zona, nelle Marche, grazie a Rossini TV, ma anche esportiamo il marchio AIL anche all'estero, lo esportiamo in Inghilterra grazie al gemellaggio con London One Radio, la radio ufficiale degli italiani a Londra. Ci aspettiamo che tutti coloro che saranno davanti al televisore domenica sera e collegati sui vari social seguano la trasmissione che sarà molto interessante e magari un piccolo contributo, ma di tanti, può fare molto per aiutare questa missione che l'AIL ha da sempre in campo.